buonasera e bentornati a flash news l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di per sempre news iniziamo il notiziario di oggi con la campagna elettorale statunitense dopo la vittoria di donald trump al super tuesday dello scorso 5 marzo nikki hayley la sfidante del tycoon per la nomination di candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre ha deciso di sospendere la propria campagna elettorale arrendendosi all'aritmetica parliamo ora dell'incontro tra putin e jorit jorit è associ da diversi giorni e ha avuto l'occasione di inaugurare un murale che ritrae ornella muti arrivata in russia con la figlia naike rivelli per un tour la presentazione è stata proprio il momento giusto per chiedere a putin se ritenga l'arte un ponte fra italia e russia il presidente ha risposto siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana e ci ha sempre tenuti vicini quella italiana è una grande arte di un grande popolo questo è evidente noi in russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così la lotta dell'italia per l'indipendenza garibaldi questo ci ha sempre uniti gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino chiudiamo con lo sport due tifosi del brighton sono stati accoltellati e rapinati nel quartiere monti a roma i due uomini arrivati nella capitale per assistere alla gara d'andata valida per gli ottavi di finale di europa league sono stati aggrediti da un gruppo di sette persone incappucciati gli inglesi hanno subito prima tre coltellate alle gambe in via cavur e poi sono stati derubati del marsupio con portafogli e documenti all'interno il presidente della federcalcio gabriele gravina è indagato con l'accusa di autoriciclaggio sotto i riflettori della procura di roma l'assegnazione del bando del 2018 per il canale tematico della lega pro di calcio alla isg ginko la compravendita sfumata di una collezione di libri antichi e l'acquisto di un appartamento a milano nel pomeriggio di ieri mercoledì 6 marzo il numero uno della figc è stato interrogato alla presenza del procuratore francesco lovoi l'interrogatorio durato circa un'ora sarà utilizzato per le indagini in atto rafa nadal non parteciperà al torneo indian wells ad annunciarlo è lo stesso tennista sui suoi profili social il campione con grande rammarico è costretto a dare forfè a causa di una condizione fisica non ottimale queste erano le notizie di oggi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con flash news sarà domani sempre sui canali social di per sempre news buona serata